Da Andy Warhol a Keith Earing, da Rabarama a Mimorotella, passando per De Chirico, Miró e Lucio Fontana, dalle 17 al 20 febbraio torna Arte Genova, quattro giornate di immersione nell'arte moderna e contemporanea con performance ed eventi per conoscere le nuove tendenze e gli artisti emergenti in una città che pare abbia un forte interesse per l'investimento in opere d'arte. Hanno una grande cultura dell'arte, un grande intuito, bisogna dire, perché proprio qui a Genova quando si parla della crescita economica di una corrente importante come quella dei cinetici o degli estroflessi, ma proprio qui a Genova sono tre anni che si va in quella direzione di investimento, per cui vuol dire che il pubblico di Genova è un pubblico colto, capace e che sa investire. Arte Genova ospita anche una rassegna dedicata a Tex Wheeler e a Dylan Dogg con le opere di Fabio Civitelli, fumettista e illustratore, che a Genova porta alcune opere tratte dalle tavole del personaggio di Gianluigi Bonelli e dell'indagatore dell'incubo creato da Tiziano sclavi per la gioia di tanti appassionati.